Scoperto dalla squadra mobile un appezzamento di terreno incontrata all'Ardichella, agro di Edrano, in cui era stata impiantata una coltivazione illegale di marijuana. Tre le persone finite in manette, si tratta di Francesco Rizzo, 28 anni, pregiudicato, Giuseppe Viglianesi, 30 anni, e Gaetano Tomasino, 56, con precedenti di... Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti, dopo un lungo servizio di osservazione, avevano notato un'auto con a bordo i tre individui fare ingresso nell'area recintata. A quel punto il blitz, con il rimbenimento e sequestro di 161 piante di cannabis indica, servite da un impianto di irrigazione che attraverso autoclave prelevava l'acqua da una cisterna posta sotto l'abitazione, estesa la perquisizione all'interno di una casolare di pertinenza del terreno. Sono stati rinvenuti e sequestrati marijuana già essiccata per un peso complessivo di 200 grammi circa, un bilancino di precisione, decine di bottiglie e bidoni di fertilizzante, oltre ad appunti contenenti indicazioni per la coltivazione della droga, i tre sono stati posti ai domiciliari.